Davvero un massaggio troppo forte, troppo esoso è la bellissima modella brasiliana Laissa, la quale per l'appunto reagisce in modo inaspettato. Si stanno facendo massaggiare le cosce vicino ai butei e così l'uomo che lo stava spalmando l'olio nel corpo, in modo da dare una dimostrazione di cui potesse essere applicato l'olio sul corpo, per l'appunto si è visto recapitare per l'appunto un secco e deciso, nonché forte risentimento da parte della bellissima modella Reissa di origine brasiliana. Venute in bella mostra, l'uomo che con la sua mano sinistra si diverte a spalmare l'olio alla bellissima ragazza, tentando a toccare tutta la coscia sinistra e arrivando fin di anche dove, in qualche maniera, non si dovrebbe mai arrivare. Bene, questo è quanto, un video dunque breve per un massaggio che è stato molto forte e molto esoso. Un saluto, iscrivetevi a questo.